Un carissimo saluto ai nostri telespettatori, bentornati a Dalla parte del Cittadino per Piave TV. La nostra rubrica con l'avvocato. L'avvocato di oggi è di nuovo l'avvocato Alessandro Menin, già nostro ospite, che rappresenta la Camera Avvocati di San Dona di Piave. Abbiamo altre domande che sono arrivate in studio, dopo la prima domanda a cui lei ha cortesemente risposto con grande chiarezza, bisogna dire, e questo le fa onore. Grazie. Ecco, procederei a leggere questa domanda. Ho superato per svista un posto di blocco della polizia. Non mi sono accorto della loro presenza perché il loro veicolo era nascosto dietro ad un albero e non portavano elementi che li rendessero visibili di notte. Solo dopo che la pattuglia mi ha inseguito, mi sono accorto del tutto. La situazione è stata sgradevole, possiamo immaginarlo, data la filipica degli agenti. Ho sbagliato io? Allora, anzitutto direi di no, però è bene fare subito una precisazione. Una cosa è un posto di blocco, una cosa è un posto cosiddetto di controllo. Il posto di blocco si vede assolutamente perché è molto visibile, devono esserci dei cartelli con il segnale di alt e in questi posti di blocco tutte le auto vengono controllate. Il posto di controllo è quello che solitamente si vede dove c'è un'auto della polizia o dei carabinieri o guardia di finanza che effettua dei controlli a campione sulle auto. In questo caso non è necessario che vi sia la previa segnalazione del posto di controllo, ma è ben vero che in ogni caso di notte il codice della strada prevede e obbliga agli agenti che fanno i posti di controllo di essere ben visibili, almeno con il cappello dei manicotti carta rifrangenti. Quindi il fatto di non poterli vedere sicuramente non hanno attuato in maniera corretta quel che prevede il codice. Certo è che forse anche loro effettivamente si sono accorti di non aver fatto bene le cose perché in realtà non fermarsi a un posto di controllo è sanzionato ben più gravemente che con una semplice filippica perché vi è una sanzione amministrativa e una decurtazione dei punti della patente. Quindi probabilmente è per questo che in realtà si sono fermati a quello. Un'ultima cosa, il posto di controllo invece per quanto riguarda l'autovelox, quello sì deve essere segnalato, è previsto una segnalazione obbligatoria da parte del codice della strada, deve essere altresì visibile, cosa in realtà l'autovelox non la pattuglia. Quindi può essere che anche se la pattuglia è nascosta la multa con l'autovelox ai noi sia corretta. Ringraziamo l'avvocato Menino per la sua chiarezza e ci vediamo appuntamento alla rubrica dalla parte del cittadino. Un caro saluto.